per tagliare per tagliare quello possiamo comprare un bombardamento c'è loro bombardamento minchia due questi qua sono loro di juggerna via 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 sali la sali la sei al sicuro mi sto allontanando un attimo vattene vattene cazzo incredibile mamma mia non so la paura che c'ho c'ho il 2 togli i ping togli i ping voglio vedere la scena mamma mia c'è sono su io li riporterei a questi comunque se ci muori riportali perché fanno il glitch non ho il bombardamento se non glielo lanciavo ti ha ucciso arrivo capri uno l'hanno ucciso uno l'hanno ucciso con bombardamento lo strettando tantissimo cazzo non ti senti avevo mutato lo strettando tantissimo lo strettando tantissimo gabri scappa 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 vai vai si sto facendo sempre in giro eccolo 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 così lo vediamo bravo 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 aspetta eh prima o poi devo morire tanto ce ne sta andando ce ne sta andando eh si ha poca vita ha poca vita ha poca vita prova a restare sto pezzo di me gabri ce l'hai delle ipopattate hai soldi hai soldi no no tu hai soldi cazzo non ce la faccio l'ha fatto eliminato 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 buona 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 due gialle andate poi l'hanno eliminato prendiamo prendiamo qualcosa autoress e tutto dai cambieremoci qua no questa qua è bellissima questa va su youtube tutta sta parte assurda contenuto multimediale eh cosa compro soldi soldi veloce il gabri no no mi serve vabbè ovvio